Napoli-Spezia partitaccia davvero secondo la mia opinione quella di oggi 22 dicembre 2021 il Napoli fa 0 gol lo Spezia ne fa 1 e pensate udite udite che quel gol è in realtà un autogol afferma di Juan Jesús al 37esimo del primo tempo disfatta del Napoli disfatta dello Spezia un autogol incredibile assurdo inconcepibile secondo la mia opinione ed è una partita da dimenticare sia per il Napoli che per lo Spezia una partita da scordare letteralmente parlando non ho mai visto una partita brutta come questa è una mia opinione sia ben chiaro una partita spenta dai toni cupi, dai toni tristi, dai toni negativi dove nessuna delle due compagni sportive ha saputo prima di giocare ha saputo sconfiggere l'altra se non quell'autogol dello Spezia punto detto questo grazie a tutti cari clienti di youtube il video termina qua c'è poco da dire per una partita che di fatto è stata tiepida spenta scarica spolpa e letteralmente acerba detto ciò grazie a tutti da Renato iscrivetevi commentate ciao a tutti ciao a tutti